Questo video riguarda i migliori tre accessori per computer. Il vincitore della qualità è l'ExonTech tastiera wireless. La tecnologia wireless 2.4G consente alla tastiera di ottenere un controllo wireless a lungo raggio. La tastiera e il mouse condividono un ricevitore. Il ricevitore si trova nella parte inferiore del mouse, plug and play, trasmissione wireless entro 10 metri. Il layout compatto a 87 tasti consente di risparmiare spazio e offre maggiore libertà nei giochi e nel lavoro. Tasti multimediali ricchi, FN più tasti funzione corrispondenti, funzionamento facile e veloce. Incredibile effetto retroilluminato arcobaleno, che offre un'esperienza visiva eccellente durante il funzionamento notturno. Batteria ricaricabile di grande capacità incorporata. Batteria con capacità di 3000 mAh ora incorporata nella tastiera. Batteria con capacità di 800 mAh ora incorporata nel mouse. Durata della batteria a lungo termine. Evitare il problema di frequenti sostituzioni della batteria. DPI a tre livelli regolabile. 800-1600-2400. Facile da controllare diverse scene di gioco. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Tecnet base raffreddamento. Tre ventole da 118 mm quasi silenziosi e una superficie di raffreddamento scanalata ottimizzano il flusso d'aria per dissipare rapidamente il calore. Due altezze regolabili per migliorare il comfort durante la digitazione e ridurre la fatica del polso. La base antiscivolo fornisce una maggiore stabilità su quasi tutte le superfici. Doppie porte USB consentono di collegare ulteriori dispositivi USB. La retroilluminazione LED blu aiuta a confermare che il refrigeratore portatile è in funzionamento. Il livello di rumorosità è inferiore ai 20 dB. Questo refrigeratore per notebook è leggero e si può portare ovunque si vada. Supporta vari laptop da 12 a 17 pollici, come Apple MacBook Pro, Dell, Lenovo, Asus, HP, Ultrabook ecc. Il vincitore del premio è il PICNESS Tappetino Mouse Gaming. RGB Tappetino Mouse Gaming contiene 14 modalità di illuminazione, 8 modalità statiche più 6 modalità dinamiche e cambia tra 7 colori. Potrebbe cambiare la modalità di luce RGB in base al tuo umore. Questo tappetino Mouse Gaming LED è alimentato da USB e non richiede driver. Funzionamento con un solo pulsante. 800 x 300 x 4 mm extra grande RGB tappetino per il mouse gioco offre molto spazio per i giochi o le attività d'ufficio. Questo tappetino Mouse XXL da gioco con un base in gomma antiscivolo, la base in materiale antiscivolo in gomma, sostiene il tappetino del mouse su qualsiasi superficie per garantire un controllo preciso del mouse e stabilità del desktop. Tappeto Mouse per gamers per PC è progettato con una superficie microstrutturato dura e precisa. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.